Presidente Polcri, un nuovo incidente possiamo dire è successo alla Marconi di San Giovanni Valdarno, c'è molta preoccupazione da parte dei genitori, ci può spiegare cos'è successo e magari eventualmente rassicurare le famiglie? Sì, devo dire che c'è stato il codice arancione in determinate zone della regione toscana, dunque anche per quanto riguarda la provincia di Arezzo sono state tantissime le situazioni di incidenti, comunque sia di calamità in determinati contesti dei singoli comuni e purtroppo naturalmente in questo caso anche la scuola che è un edificio ha subito per queste grandi folate di vento di ieri sera, ha subito un piccolo distacco di un pezzo di intonaco esterno e questo distacco è caduto su una struttura in plexi che era una sorta di pensilina di copertura esterna che serve proprio per far entrare i ragazzi, per evitare che si bagnino nella brutta stagione, dunque c'è stata questa rottura di questa struttura ma non è naturalmente un elemento strutturale ma solo un elemento secondario esterno, dunque noi contiamo già da lunedì o martedì la prossima settimana di poterlo reintegrare.